Ben trovati, ben trovati anche questa settimana da Paola Sartori in Dal Campo alla Tavola. La trasmissione è realizzata insieme alla CIA di Padova per conoscere meglio il mondo dell'agricoltura sotto diversi punti di vista. Sapete che ogni tanto ci piace conoscere anche gli imprenditori, le loro esperienze, le loro produzioni. Oggi ci concentriamo sul vino, lo facciamo con due voci, con due persone, una la conoscete già. Si tratta di Orlandino Veronese, ben ritrovato Orlandino, titolare dell'azienda agricola Veronese e anche vicepresidente del consorzio Vinidoc Colli Eugani e una new entry per questa puntata che è Giovanni Bressanin. Giovanni benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Tu rappresenti l'azienda agricola versa di Voe Euganeo, quindi un'esperienza consolidata che è quella di Orlandino, un'esperienza più giovane invece la tua, la volontà di mettersi in gioco in un settore che scopriremo adesso, grazie a te, se è così affascinante, così in grado di motivare anche un giovane. Sì, praticamente l'azienda è stata acquistata dalla famiglia Voltazzo nel 2006. Quindi giovanissima proprio. Recentemente proprio e per questo periodo praticamente aveva lasciato i vigneti in affitto ad altre aziende dei Colli Eugani fino a che con l'annata 2010 ha deciso di entrare in campo e mettersi in gioco. Siete tutti giovani? Siamo tutti giovani, abbiamo la passione del vino, anche perché è una cosa unica data dal territorio che ogni anno è una cosa diversa e quindi è anche una cosa che crea delle emozioni. Tu non hai esperienza familiare in questo settore? Io ho esperienza familiare in questo settore con altre aziende blasonate anche dei Colli Eugani dopo l'idea di mettersi in proprio e cercare un'avventura propria. Quindi diciamo che ce n'è un po' nel DNA questa passione. Mio nonno faceva vino, la mia famiglia faceva vino e alla fine siamo ritornati con un'azienda dei Colli. Senti Giovanni, è un periodo difficile per il mondo del lavoro in generale. In questo specifico settore, voi siete praticamente partiti da pochi anni, quindi avete conosciuto anche le difficoltà che possono essere portate dalla crisi. Quali sono state le difficoltà più grosse nel mettersi in gioco come imprenditori? Le difficoltà più grosse è che alla fine in questo momento è difficile a livello economico. Sul nostro settore ci sono molte aziende a livello di produzione di vino, in questo momento di vino di qualità in Italia e nei Colli Eugani ce n'è parecchio. La cosa interessante è che secondo me la passione, la voglia di fare un prodotto unico e cercare a livello qualitativo veramente estremo, penso che possa ripagare di tutte le difficoltà che ci troviamo a affrontare ogni giorno. Quindi le difficoltà ci sono ovviamente, però la forza di volontà e la voglia di mettersi in gioco, di sperimentarsi anche Orlandino perché penso sia una delle cose fondamentali. Qui abbiamo una serie di produzioni che arrivano proprio dalla vostra azienda agricola. Per esempio io avevo visto questa bottiglia, questo pinello, io confesso di vini non me ne intendo molto, io il pinello non l'avevo mai sentito, per esempio. Questo è un vino storico dei Colli Eugani che si è perso negli anni 90, diciamo, quando c'era il momento della massima produzione, anche perché era un'uva che tendeva quindi a guastarsi prima della maturazione. Quindi delicata, molto delicata. Ama dei terreni molto ventilati e assiutti e chi l'ha mantenuto, siamo in poche aziende e di conseguenza poca visibilità. Ecco perché si sente anche poco, però insomma questa è la conferma anche di quello che diceva un po' Giovanni, ci vuole forza di volontà, la voglia di sperimentarsi e anche di recuperare le tradizioni. L'abitato dei Colli sta dando molti risultati perché abbiamo climi diversi, abbiamo varie situazioni dove proprio si esaltano anche i profumi di certe varietà. Allora io adesso ho una domanda per Giovanni che riguarda la formazione continua in qualche modo, però prima voglio chiedere una cosa ad Orlandino perché stiamo parlando di terreni, di biodiversità. Quindi al di là della formazione di cui parleremo con Giovanni è fondamentale anche l'amore per la terra nella quale si lavora. Sicuramente penso che chi viene a lavorare sui Colli abbia proprio la passione e l'amore della zona e del terreno dove... E bisogna conoscerlo bene anche Orlandino, con le caratteristiche. Sicuramente bisogna conoscerlo anche perché dobbiamo conservare un patrimonio che sono i Colli, che non ce ne sono altri così, che hanno delle forme proprio particolari. Certo, perché poi alla fine avere un'azienda agricola attraverso la quale si produce vino nel caso vostro, ma possono essere anche piante da frutto, altre produzioni magari autoctone molto particolari, la cosa bella è anche il vedere, non sono solo aziende che producono. Per le nostre aziende la soddisfazione è anche che il consumatore venga proprio in azienda a vedere il posto dove nasce il prodotto. Certo, perché immagino che sia un colpo d'occhio straordinario anche vedere i vostri vivimenti, queste aziende adagiate sui Colli. Sicuramente perché chi coltiva, diciamo, chi lavora il terreno dà il meglio del posto dove abita, della situazione dove si trova. Diventa parte della famiglia anche la natura in qualche modo. Sicuramente si conserva anche un patrimonio che se mancasse proprio l'agricoltura sarebbe proprio brutto da vedere. Veramente è un peccato mortale in qualche modo. Giovanni, allora abbiamo sentito questa grandissima attenzione per il territorio che immagino tu confermerai perché bisogna conoscerlo bene, bisogna studiarlo e arriviamo allora al discorso che volevo fare con te che è quello della formazione. Cioè non ci si improvvisa imprenditori agricoli, non si può. Sicuramente non si può improvvisarsi imprenditori agricoli anche perché alla fine il vino è una cosa unica, come diceva lui, a livello di diversità di territorio e ogni anno una cosa diversa. La fortuna che ho io insieme a altri collaboratori dell'azienda Versa è che la famiglia Voltazza opera in altri settori, ha investito su persone con una certa esperienza sia nazionale che internazionale sulla propria azienda, cercando di portare quella loro passione, quella loro idea di vino che hanno e trasferirla a noi. Noi abbiamo la fortuna di essere partecipi a questa cosa, quindi cercheremo di mettere a frutto tutta la nostra esperienza, tutta la nostra… anche capire, anche perché ogni anno è una cosa diversa e quindi ogni anno è un rimettersi in gioco, quindi sicuramente è una cosa abbastanza interessante. Non si vive di rendita, non è che una volta che uno si è avviato poi lascia andare, formazione continua anche per voi, cultura proprio in questo modo. Un anno è diverso. È certo, allora abbiamo parlato del pinello che è una cosa per noi da riscoprire evidentemente perché magari non tutti lo conoscono, ricordiamo gli altri vini che abbiamo su questo tavolo, c'è il Serprino che è un'altra… Ricordiamo che quest'anno da aprile abbiamo il Fior d'Arancio che è passato in DOCG. Certamente, questo qui abbiamo già avuto modo di apprezzarlo nell'altra conversazione con Orlandino Veronese, quindi il Fior d'Arancio rimane un fiore all'occhiello, qui abbiamo un Cabernet, quindi vini tutto sommato abbastanza delicati per quanto riguarda l'azienda Veronese se lo sbaglio. No, sono tutti vini in cui noi puntiamo tutto, diciamo, e cerchiamo di curarli al massimo. Per palati però molto raffinati, l'azienda Versa invece che specificità… Allora, l'azienda Versa praticamente, la fortuna dell'azienda Versa è che è un corpo unico, praticamente proprio sopra un colle, lavora con varietà bordolesi, quindi Merlot, Cabernet Franca, Cabernet Sauvignon, Carmener e poi come bianchi ha delle varietà autoctone in bianche, Malvasia, Tai, Garganega e poi fa uno sciardone. Comunque l'azienda Versa fa 5 tipologie di vino, una produzione aziendale in circa di 25 mila bottiglie, abbastanza ridotta in questo momento. Allora, abbiamo ancora pochissimi secondi, quindi farei ricordare a Orlandino Veronese dove si trova la sua azienda. La mia azienda si trova nel comune di Cinto Uganeo, nella fassione di Val Novaredo. Invece l'azienda Versa dove la possiamo trovare? Via Monteversa, a voi Uganeo. A voi Uganeo, quindi Cinto e voi, anche nel caso vostro la possibilità di incontrare le persone che vogliono conoscere questi vini e soprattutto la possibilità di chiacchierare con piacere e riscoprire la cultura del vino insieme a voi. Molto volentieri. Bene, allora io ringrazio Orlandino Veronese e Giovanni Bressanin per averci fatto compagnia e per averci fatto scoprire in pochissimi minuti e molto velocemente alcune specificità e tutto ciò che riguarda la cultura del vino. Magari avremo la possibilità di ritornare a parlare in maniera un po' più specifica delle produzioni, quindi io vi aspetto ancora. Grazie. Grazie. Grazie ai nostri ospiti, con voi invece ci rivediamo la prossima settimana. Grazie a tutti.